Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 4 settembre 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Lavoro e benessere sempre al primo posto. Gli amici già tutti partiti, qualcuno sta mani, quanto a voi che amate andare controcorrente, salutate tutti quanti pregustando il vostro viaggio quando tutti saranno rientrati, qualcuno dovrà pure restare al lavoro, coprire i turni in azienda o portare avanti gli impegni. Negli ospedali, nei trasporti, nei servizi sociali, nella ristorazione, al supermercato, da oggi il personale è preziosissimo, perciò chi è in cerca farebbe bene a proporsi, con la luna in sesta casa magari un posto salterà fuori. Scaramuccia pomeridiana con il partner, ma questa non è una novità, la vostra sete di libertà cozza facilmente con la volontà altrui, doppiamente quest'oggi con la bianca signora che transita nel segno potente e volitivo del leone, in conflitto col vostro e l'inquilino Plutone, che in fatto di autoritarismo non è da meno. Ogni cosa nella coppia sembra essere distrutta, la situazione precipita e vi è rottura, separazione, divorzio. Il distacco è definitivo e immediato, il partner è un traditore, un colleroso, un egoista, un avventuriero, qualcuno che ci prende in giro e sfrutta i vostri sentimenti. I singli incontreranno persone sbagliate che potrebbero costituire un pericolo per loro. Oggi i nati tra le 18 e le 22 di lunedì e giovedì raccoglieranno i frutti di un buon lavoro. Molta attenzione agli amori extra o clandestini, anche chi vive un amore complicato oggi dovrebbe fare molta attenzione. In amore portate avanti le vostre idee e con decisione, non vi curate delle critiche che vi rivolgono, in fondo potrebbero essere interessate. Cercate in ogni caso di privilegiare i vostri sogni e di fare in modo che si realizzino. Oggi potreste avere un piccolo colpo di fortuna come una piccola vincita, una piccola opportunità, una piccola proposta. Cercate di non sprecare l'occasione e di non pensare tuttavia che in fondo è sempre una cosa trascurabile. La vostra salute è preziosa, oggi particolarmente fate attenzione ad essa, alla vostra alimentazione. Non sprecate sacrifici e rinunce fin qui fatti. Praticate qualche sport se vi è possibile. Prudenza alla guida di autoveicoli e motocicli, oggi a preferenza prendete l'autobus o il treno. Molte in agguato. Buone prospettive per acquistare qualcosa che desiderate da sempre anche se dovete fare i conti bene prima di parire il vostro portafogli. Vi mancheranno costanza e pazienza sia sul lavoro che in amore. Una giornata quindi piuttosto pericolosa se non saprete mettere a fuoco obiettivi e priorità. Acquisti di ogni tipo. Ma prima di spendere, fatti un po' di conti. Incassi, ma anche tante spese. Meglio non comprare cose inutili. Il panorama dei moti planetari si rivela per voi un po' in salita oggi, ma abbastanza avvincente in questa estate che vede la presenza di Urano, vostro governatore ideale, imbronciato. Per fortuna benefici vi arrivano da Giove e Plutone, a portarvi una discreta armonia in campo familiare e nel settore delle amicizie. Mattinata tutta per il lavoro, non solo nel settore turistico, ma nei servizi sociali, nei trasporti, in tutto quello che non si può mai fermare, perché di pubblica utilità. Tempo e impegno devoluti al volontariato, quando la città si svuota e tutti se ne vanno a spasso per il mondo, restano i più fragili e bisognosi d'aiuto, anziani, migranti, animali abbandonati, dei quali vi prendete cura con tanto entusiasmo. Serata allegra velata di passionalità, se un partner nella vostra vita c'è stanotte si dormirà molto poco, in caso contrario lo incontrerà attraverso la trama onirica, degna di un veggente, la luna e il leone opposta Plutone vi ispirà desideri intensissimi. Amore ed Eros. Impegnatissimi tutto il giorno col lavoro e se siete in vacanza con l'ambiente, la lotta all'inquinamento, alla plastica, alla caccia, alla deforestazione e tutte le tematiche che vi vedono da sempre ecologisti entusiasti e convinti. La serata, però, è tutta per l'amore, se il partner vi chiede trasparenza parlategli con sincerità, non c'è nulla che non si possa risolvere insieme. Gioven gemellico adiuvato da Marte nello stesso segno, vi promette una capacità di sintonizzarvi con la vostra dolce metà, che fa innalzare il vostro rapporto d'amore a vertici da voi non provati da tempo, se avete la fortuna di coltivare un legame stabile. È la passione, quest'oggi a farvi volare, se siete ancora single e se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade acquariana. Lavoro e denaro? Weekend di lavoro, ahimè, se siete di turno o le vacanze le avete già godute siete tra i pochi di servizio anche oggi. Del resto il mondo non si ferma per le vacanze di settembre, i servizi devono andare avanti e il turismo reclama manodopera. Varie le ragioni del vostro impegno, turno, mancanza di pecunia o semplicemente il piacere di fare il bastian contrario, quando gli altri vacanzeggiano voi lavorate, per poi andarvene in ferie a costo di mezzato a fine mese o a settembre, quando gli altri saranno ai posti di combattimento. Insomma, le solite incombenze, casa, lavoro, scuole, mentre voi ve lascialerete, godendovi la vostra meritata libertà. Pomeriggio di discussione in merito a un affare, un accordo o semplicemente una divergenza d'opinione che vi accalora parecchio, col rischio di farvi rompere un rapporto di lavoro o di buon vicinato. Benessere. In ottima forma, ma paradossalmente attentissimi alla salute, di solito fanalino di coda tra i vostri interessi. Forse, a mettervi in allarme, sono i discorsi captati in spiaggia o a tavola, se sotto i 60 si parla quasi esclusivamente di moda e di amore, al di sopra sentite menzionare soltanto l'artrosi, la pressione, l'osteoporosi. Ecco perché di colpo vi incubite e cominciate a preoccuparvi seriamente per il vostro futuro. Per lei, nuovo compagno e stavolta pare stracotto di voi, ma aspettate a cantare vittoria, i primi problemi si annunciano già in serata nel lettone. Non che manchi la voglia, piuttosto lo spazio, con snopi che ci dorme di traverso e di spostarsi non ne vuole sapere e incominciano già le lotte per la supremazia. Per lui, gara sportiva tra amici, vi spiace metterli in difficoltà, ma stavolta sarete voi a stracciarli. Tranquilli, è solo un gioco, a partita finita ci si abbraccia facendo pace con una pizzata. Colore delle emozioni, magenta. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 5, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.